Benvenuti o bentornati sul mio canale in questo nuovo LL Lunedì Letto, leggendo e leggerò, il mio aggiornamento di lettura in cui vi parlo degli ultimi libri letti che cosa sta leggendo e cosa leggerò in futuro Visto che ho un po' esagerato, diciamo che tutti quelli che ho letto ad agosto li releghiamo in un futuro wrap up dedicato a questo mese così riusciamo a fare un po' di ordine e ora vi parlo dei libri letti a luglio dopo l'ultimo aggiornamento di lettura che abbiamo fatto insieme il più piccolino, piccino, piccino è questo di Virginia Woolf, un collegio di ragazze è una minuscola raccolta di racconti il mio preferito di racconto si chiama Una Società e racconta di un gruppo di ragazze che si riunisce una di loro, per poter usufruire della propria eredità dopo che è morto il padre deve leggere un'intera biblioteca non sto scherzando, un'intera biblioteca, qualsiasi cosa ci fosse all'interno della biblioteca che aveva scelto il padre e come esordisce agli amiche? dice i libri, esclamò, sono per la maggior parte indicipilmente brutti perché povera stella aveva dovuto leggere dizionari cose che non le interessavano minimamente, di storia militare e quant'altro quindi cosa decide questo gruppo di ragazze? decide che, visto che lo scopo degli esseri umani è produrre bei libri loro dovranno fare da guardia gli uomini per controllare che loro scrivano ottimi libri quindi si riuniscono, si attraversano da uomo, si infiltrano mi è piaciuto tantissimo, non voglio dirvi altro anche perché vi ho già spoilerato più della metà questo che sono racconti brevissimi è sicuramente valso la pena, costa solo 4,90€ e vi consiglio di comprarlo poi un tè con biscotti a Tokyo, ve ne ho parlato nei vari LL lunedì l'avevo finito anche tutto d'un fiato perché alla fine ti prende davvero tanto la storia è abbastanza, come lo dico senza sembrare offensiva scemo, è una storiella abbastanza ridicola però è ambientata in Giappone quindi che vi devo dire, mi faccio abbindolare facilmente Giappone, Francia, i miei punti deboli un appunto che mi sono segnata è per quale motivo ripeto ogni tre pagine quanto siano belli i capelli del protagonista sono belli, sono biondi, sono belli, sono biondi lo ripeto, ogni pagina è insostenibile però alla fine che mi frega l'ho comprato tanto per è costato anche questo pochissimo perché come avevo detto erano i 9,90€ due libri della Newton quindi vabbè ultimo libro letto a luglio che cosa vediamo quando leggiamo? non ci crederete l'ho letto in un giorno ora direte, oh mio Dio no, è finto è finto sono soltanto quasi solo figure quasi solo pagine con una parola sola moltissimi disegni quindi si legge in un battito d'occhi il prezzo del libro proprio a causa di tutti questi disegni, grafiche e quant'altro è alto 19,50€ e non so se dirvi che lo consiglio oppure no perché in effetti per il costo che ha non ha tante informazioni quanto uno si aspetterebbe non vi voglio spoilerare nulla perché veramente dice abbastanza poco ci sono tantissime pagine stampate tutte nere e quindi lo capisco che debba costare molto di più del normale però non lo so l'ho letto tutto d'un fiato perché mi ha fatto sentire spesso capita ho scoperto di non fare solo io alcune cose per esempio quando leggo un libro lo ambiento a volte in luoghi che conosco già anche se non c'entrano niente con la trama ad ogni modo sono contenta di averlo comprato e letto però c'è comunque qualcosa che manca spero di trovare altri saggi che trattino di cosa vediamo quando leggiamo e se avete da consigliarmene qui giù nei commenti io sono contentissima di scoprire nuovi saggi di questo genere leggendo leggendo il teorema del pappagallo me l'hanno detto in 60 milioni di persone di leggerlo mi sono convinta di iniziarlo soltanto perché ero in spiaggia visto che il libro consta di 553 pagine che sono tante sono veramente tante il libro è bellissimo sono super contenta di averlo iniziato infatti sono già a pagina 200 spero di non perdere il ritmo perché è difficile portarselo dietro perché pesa e vi parlo un po' di cosa tratta cerco di non fare troppi spoiler anche se è talmente lungo che pure se ve ne facessi non dovrebbe succedere niente siamo a parigi quindi già qua mi hanno preso in una libreria e il libraio è un uomo sulla sedia a rotelle che vive con la sua commessa della libreria che ha tre figli due gemelli e un altro ragazzo l'altro ragazzo si chiama Max ed è sordo ma perché il teorema? perché il pappagallo? Max salva un pappagallo dalla testa blu da un abuso che ha visto per strada e il teorema viene dal fatto che il libraio riceve da un vecchio amico un'intera biblioteca di testi matematici da quel momento inizia a fare delle lezioni ai tre ragazzi per raccontargli un po' la storia della matematica oltre alla matematica in sé è davvero bello a volte un po' ripetitivo perché comunque è un libro per ragazzi secondo me quindi nei libri per ragazzi si sente ripetere spesso per esempio che Max è sordo lo ripete in continuazione in continuazione ci dice dove vivono, la via, quanti sono, perché sono lì e quindi risulta un po' fastidioso quello e che la matematica, adesso sono ancora all'inizio quindi siamo in antica Grecia geometria, cose molto di base la matematica è molto molto conosciuta quindi potrebbe essere una lettura che la me di 15 anni avrebbe abbrezzato più della me di adesso ne parleremo più avanti e spero di farci anche una letteratura scientifica sulla matematica veniamo adesso ai leggerò che sono due uno mi è arrivato il regalo e ringrazio tantissimo Gianni Cronaca l'autore che mi ha fatto anche una dolcissima dedica all'interno che però è mia e non ve la leggo che cosa è questo libro? Parigi amore e tirami su Barbascura ne ha parlato anche in una live ne ha letto un capitolo e mi ha fatto morire dalle risate quindi ho detto lo voglio troppo aspetto che esca e me lo comprerò e poi mi ha contattato direttamente Gianni Cronaca che me lo voleva mandare vedremo anche come parlarne insieme spero di riuscire a fare una live o qualcosa comunque voi seguitemi anche su Instagram perché lì ne ho parlato e forse lì sarà più facile fare una live vedremo perché lo devo almeno iniziare prima giusto? ed è la storia narrata in prima persona di Gianni Cronaca di quando è dovuta andare a vivere a Parigi e quindi è un insieme di deliri, disavventure deve essere molto molto divertente ovviamente non ci è andato da solo ci è andato con la sua compagna per questo ci sono due persone e c'è anche l'amore nel titolo speriamo bene vi ho detto che l'avrei comprato non vedevo l'ora che arrivasse non vedevo l'ora sì sono una bimba di Falcinelli questo libro aprirà la rubrica come l'ho fatto per Tremorama lo farò anche per figure spero di imparare tanto di migliorare anche i video la composizione delle fotografie su Instagram in generale migliorare io e ringraziamo Falcinelli per essere in vita e scrivere e divulgarci tutti detto ciò ci troviamo al wrap up di agosto con quest'altra montagna qui dietro e io vi posso fare una domandina quanti libri avete letto all'agosto? rispondete qui sotto così scopro quante di voi sono arrivati fino a questo punto del video a questo punto vi chiedo soltanto di lasciare un mi piace iscrivervi al canale e non mi rimane che augurarvi buona lettura ciao! 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 ciao!